A Torino, presso il centro commerciale 8 Gallery, nella Corte della Ristorazione, è visibile fino al 27 luglio la donna immaginata, l'immagine della donna, che testimonia attraverso vignette d'epoca l'evoluzione del costume e il cambiamento di ruoli e mentalità avvenuti nell'ultimo secolo. Nello stesso spazio è allestita anche la rassegna fotografica Tibetani Storie e Storie. Gli appuntamenti con le mostre itineranti del Consiglio regionale proseguono fino a settembre.